Il Tavagnaco torna a vincere dopo due sconfitte, batte meritatamente il Bari, come hai visto questa partita? Sì, siamo contenti della prestazione, volevamo riscattarci dopo queste ultime partite, abbiamo imposto subito il nostro gioco e nei primi dieci minuti siamo riusciti a fare due gol. Dopo la partita è stata in discesa e abbiamo avuto anche pochi pericoli dietro. Come valuti la tua prestazione? Bene, ho corso abbastanza, sono contenta di essere riuscita a giocare con la squadra, di essermi proposta di aver giocato tanti palloni. E un'ultima cosa, la festa della vittoria rovinata dall'infortunio di Lana? Sì, ancora non si è capito bene cosa è successo, speriamo che non sia niente di grave anche perché abbiamo bisogno di lei. Grazie a tutti.